andranno per il calcio dalla base e quindi ripartiremo da dietro io darei la palla a Capuozzo così fanno Padovani la muove su Capuozzo Capuozzo esplora le possibilità trovo un buco trovo un buco Angi Capuozzo vai Angi vai Angi vai Angi vai Angi vai Angi gioca il 2 contro 1 vai Edo è difficile raccontare una storia che ha ancora tutta da scrivere eppure quel pomeriggio del 19 marzo ho fatto una promessa alla community del canale vi racconterò Angi Capuozzo e allora eccomi qui a pagare il tributo a un guaglione di padre napoletano e madre di origine del Madre Ascal cresciuto però tra le Alpi dell'Isère nei pressi di Grenoble un pepite dicono tra quelle montagne la sua famiglia non è di regbisti per qualche strana ragione la trazione con la palla ovale è immediata racconta lui stesso a un giornale locale una famiglia quindi non di regbisti ma immaginiamo molto importante per la sua crescita e come ci racconta lui attraverso il profilo di Instagram il padre fin da piccolo gli indica il cammino Angi nasce a Pont des Clés e inizia a giocare nello US DuPont Robert Dutot uno degli educatori del suo primo club lo ricorda così quando arrivava in allenamento spesso in anticipo la prima cosa che faceva era prendere un pallone e giocare col sorriso immaginiamo noi vedendolo divertirsi anche adesso con la maglia azzurra notavamo aggiunge Dutot che se la cavava molto bene coi piedi aveva qualche problema a placare gente molto più grande di lui ma a parte le dimensioni aveva tutto dalla sua parte a parte le dimensioni ecco immagino che questa frase se la sia sentita ripetere più e più volte un cruccio che Angi si porta addosso da sempre perché non deve essere facile essere 1,77 per 71 kg e giocare nel rugby dei superman però per Angi non sembra essere un grande problema all'attivo conta nel momento in cui registriamo questo video 47 partite in pro de deux un campionato popolato da giganti isolani e seconde e terze francesi ruvidissime oltre a questo anche uno spezzone giocato da giovanissimo in pro 14 due partite e due mete con l'Italia nei sei nazioni e attenzione cinque partite con l'under 20 dell'Italia e due mete sì perché l'avventura azzura di Angi iniziò con quella spedizione dell'under 20 ai mondiali in Argentina compagni di squadra di quella generazione c'erano alcuni ragazzi in campo anche a Cardiff Paolo Garbisi su tutti ma anche Fusco e Alonji più altri che hanno già vestito la maglia azzura senior come Mori e Trulla e vari altri che potrebbero vestirla nei prossimi anni in Argentina Capuozzo gioca 115 minuti e segna due mete forse anche complici i due anni della pandemia però Crowley lo scopre solo all'inizio 2022 per la nazionale maggiore lo stesso allenatore neozelandese confessa che era titubante per la stazza mingerlina e il peso leggero Capuozzo però delle sue dimensioni ne fa un punto di forza e in pro de deux inizia a segnare mete e ad essere amato dal pubblico dello Stade des Alpes come pochi dove non arriva il fisico arriva il talento ma soprattutto la forza di volontà umile e lavoratore ha raccontato che si è segnato carta e penna gli obiettivi e li persegue con tenacia uno di questi sicuramente era il giocare con l'azzurro non importa di quale sfumatura e di quale nazione al di qua o al di là delle sue amate alpi per lui è casa sia di qua che di là anzi di azzurro ce n'è anche un terzo quello dell'amato Napoli in casa racconta parliamo francese e napoletano e pare che all'esordio con l'Italia abbia dovuto cantare o surdato innamorato il destino per fortuna ha voluto che fosse l'azzurro dell'Italia e lui ha abbracciato questa chiamata senza tentennamenti e con grande amore fin da subito sempre il destino che occhio si traduce in talento più tanto 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 lavoro ha voluto che la prima partita in cui ha cantato l'ino di mameli coi grandi fosse contro la Scozia e lui con gli occhi di un bambino ha raccontato come la prima partita di rugby che vide fu proprio Francia-Scozia ma come detto la storia di Angie è ancora tutta da scrivere e allora dalla prossima stagione vestirà la maglia del Tolosa sì avete sentito bene lo Stade Toulouse campione di Francia ed Europa giocherà a fianco a Dupont e Ntamac ad aprir i corridoi dove galoppare avrà i più forti avanti del Canse de France come Cyril Baye Julien Marchand Mouvacar Cross Geelong si giocherà il posto con giocatori del calibro di Melvin Jaminet altro giocatore che poco tempo fa era in Pro 2 e ora è una superstar ma questa è un'altra storia chissà cosa ne dicono tutti quelli che negli anni hanno mormorato sì è bravino ma gli manca il fisico chissà cosa hanno pensato quando nel giro d'onore dell'impresa Cardiff che ha riacceso la speranza sul rugby azzurro si è visto arrivare Josh Adams che dopo avergli chiesto di scendere dalle spalle di Alaphia e Nicotera che lo stavano portando a spalle in trionfo vestito del tricolore gli ha consegnato la medaglia di Man of the Match che non sentiva appartenergli con un gesto di enorme sportività verso un ragazzino considerato da tutti o quasi troppo mingerlino per giocare ad alto livello il posto disse non volevo accettarla ero già incredibilmente contento del gesto però Adams non ne voleva sapere e quella medaglia resterà per sempre nella memoria e nel cuore di Angie a testimonianza di quello che il rugby sportività rispetto ma soprattutto un mondo dove e sì non è retorica anche David può affrontare e battere Golia e dove i sogni sono possibili attenzione questa storia è ancora tutta da scrivere